Allora siamo senza mascherina nel parco, in tre stavamo parlando senza mascherina e sono arrivati due poliziotti che stanno verbalizzando, sono arrivati una volante, due, tre. Guardate per tre mascherine che non abbiamo indossato, un decreto che è obbligatorio dal 27 di dicembre. Siamo al parco, guardate per tre persone che non indossano la mascherina quanto disturbo. Cioè questo è quello che succede per non aver indossato la mascherina, ma mi sembra una cosa normale, ma è vergognoso o no? Tutti qui a controllare se al parco si indossa la mascherina. Guarda, guarda che mobilitazione che io non ho mai visto neanche in Valle Gramsci quando c'erano tutti i drogati per terra.